In questa situazione economica, sapendo che noi destineremo, e di questo c'è la prova certa, non soltanto per le dichiarazioni ma perché è scritto nella Nadef, sapendo che quei soldi andranno fino all'ultimo centesimo, alle fasce più deboli degli italiani, sapendo questo non votate lo scostamento. Beh, questa dà la prova chiara da che parte stare.